C'è anche una società pratese nel mirino della Guardia di Finanza di Firenze che ha concluso una complessa indagine su una frode fiscale da 75 milioni di euro che avrebbe prodotto un'evasione IVA di 8 milioni. I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura. Si tratta di un decreto diretto e per equivalente valore 8 milioni a carico di 5 cooperative che operano nel settore dei trasporti e della logistica e di 7 tra rappresentanti legali e consiglieri di CDA. Al momento gli investigatori hanno intercettato 11 conti correnti, disponibilità finanziarie per 170 mila euro, veicoli e un immobile. Secondo le indagini avviate nel 2018, le cooperative con sede a Firenze ma riconducibili a un consorzio di Pistoia avrebbero effettuato finti acquisti di gasolio dalla società pratese per contabilizzare crediti IVA a fronte dei quali sarebbero state emesse fatture fittizie di servizi di autotrasporto e consegna merci verso società estere esenti da IVA in quanto intracomunitarie. Le operazioni hanno consentito alle cooperative di utilizzare gli 8 milioni di crediti IVA per compensare il debito derivante da altre operazioni. La Guardia di Finanza ha documentato più di 75 milioni di euro di fatture false, prive di documentazione a corredo e risultate saldate da decine di contratti, anche questi finti, di cessione del credito.